Il risultato di mini PC, dei Bourbon e dei NUC è davvero molto ampio e stavolta vediamo Shuttle XPC Nano, una delle ultime proposte di Shuttle che può essere acquistata in configurazioni davvero molto variegate. Si parte dai circa 200 euro per un modello con Celeron fino ad arrivare a oltre 500, quasi 600 euro per il modello con processore i7, decisamente più prestante. È molto piccolo, ha un forum factor da mezzo litro e ha davvero una dotazione di porte molto completa tra cui spicca la vecchia porta seriale che lo rende decisamente adatto più ad un ambiente ufficio o lavorativo piuttosto che quello domestico. È un oggetto davvero molto interessante perché c'è il supporto a tutti i sistemi operativi principali, compreso Linux, ma allo stesso tempo risulta un po' problematico perché l'utente magari crede di spendere poco acquistandoli questi modelli e poi si ritrova in realtà a dover comprare la RAM, a dover comprare l'SSD e a dover acquistare magari una licenza di un sistema operativo soltanto per metterlo in funzione. Vi segnalo che il nostro sample ha avuto qualche piccolo problema ma questo non ha assolutamente avuto conseguenze sulla valutazione del prodotto che se l'è cavato più che bene sia nell'uso office sia nell'uso multimediale. Un saluto al prossimo video per guidewall.com, Andrea Ricci